salve ragazzi vi avevamo già parlato in passato di scritture d'intorni avevo parlato anche con l'autore di questo canale il canale si è iscritto nel 5 ottobre del 2021 266 iscritti al momento sta crescendo io credo di essere stato uno dei primi se non addirittura il primo a iscrivermi al suo canale proprio avevo beccato nel momento stesso in cui stava caricando il video e comunque fa degli ottimi video non solamente di silo grafiche perché si allarga un pochino ai tacquini ai notebook e anche alle penne a sfera dieci mesi fa ha iniziato a con il suo primo con la sua presentazione e poi ha proseguito con diverse tipologie di penne anche molte stilografiche carte non so se ha toccato anche l'argomento inchiostri ma sto controllando ma comunque se ha parlato delle ginao di penne della muci la bic insomma a me è sembrato bravo vogliamo andare a vedere un attimo l'ultimo delle sue proposte come al solito ci abbiamo la pubblicità ma ce la mettono cinque secondi no eccola qua sta parlando della muci penna stilografica recensione anche qui non faccio fare spoiler per conservarvi almeno la voglia di andarmelo a vedere però eccola qua x 159 va bene insomma le mette in mostra le fa vedere tante io credo che ha che ha sicuramente un futuro questo canale va bene io anche in questo caso metterò il link nella nella descrizione di questo video e anche magari nel primo commento che dirvi un abbraccio e alla prochaine o anche meglio faber castello a tutti grazie a tutti grazie a tutti